Mi chiamo Serafino Iannone e sono candidato alla Camera dei Deputati nelle liste di Forza Nuova. In questi giorni stiamo assistendo a degli squalli di siparietti televisivi, animati dalle solite facce e da improbabili politicanti, che sono pronti ad accabigliarsi tra di loro per delle sciocchezze, senza mai toccare realmente quelli che sono i problemi reali del popolo, ridotto oramai verso la soglia della povertà. Volevo parlare di un tema che a me sta molto a cuore, è quello dei pendolari, essendo anche io uno di voi, che ogni mattina prende il treno per regarsi sul posto di lavoro. Posso denunciare degrado e sporcizia sui treni, senza parlare poi dei ritardi. A fronte di queste problematiche noi di Forza Nuova siamo scesi più volte in piazza a denunciare questo degrado, facendo delle raccolte film e denunciando il tutto agli organi preposti senza mai ricevere nessuna risposta. Nei prossimi giorni scenderemo per strade nelle piazze a presentare il nostro programma elettorale, in previsione delle elezioni del 24 e 25 febbraio. Per la ricostruzione nazionale, il 24 e 25 febbraio, unisciti a noi e vota Forza Nuova.